Ecco, io sto facendo molte scade, ma... E poi che fate? Poi noi bagniamo! Questa è, come sapete, è una occasione speciale. Abbiamo avuto la possibilità e la felicità e il privilégio di benvenire il maestro Bernardo Bertolucci, qui in Los Angeles. Abbiamo visto il l'ultimo emperor in 3D. Questo è proprio un benvenimento da tutti noi, da Los Angeles. Abbiamo un piccolo token, per voi, che è una medalla di bronze, che è un esempio tipico dell'italiano craftsmanship, da Fonderia Marinelli in Florence. E questo è per voi, maestro. Grazie per venire a Los Angeles. E, per favore, continui a noi inspirare con il vostro lavoro e la vostra artista extrema. Grazie. Grazie molte all'amico Console. È stato in questi giorni estremamente ospitale e amichevole. Faccio un'eccezione. In genere le medaglie di bronzo, insomma, non mi piacciono. Ma visto che è fatto da una fonderia fiorentina, siamo felici di accettarla. Niente, qui si sta molto bene. Non vedo Paolo Sorrentino, spero... Ah, eccolo. Faccio di più, va bene. Tu hai una nomination, io ne avevo nove, era molto più faticoso. Però, vedi, devi... Io credo che il tuo film, che è andato molto bene a Londra, lo so, perché viviamo anche a Londra, e tutti ne parlavano, ha delle grandi chance qui. Io ieri sera ho visto l'inizio, che mi piace moltissimo, con il fontanone e quel giapponese... me ne sono andato quando quel povero giapponese muore di bellezza. Evviva Paolo! Paolo, puoi venire a dire qualcosa? Ti preghiamo, qualcosa. Io sono molto felice e sono molto contento di quello che mi dici e farò come hai detto tu, perché ne ho avute nove, io ne ho mezza, quindi mi basterebbe mezza di quelle nove. E niente. Com'è stato il ricevimento, l'accoglienza del film? L'accoglienza del film mi è sembrata buona, mi è sembrata una... Bene, sono stato contento, hanno riso, hanno... mi sembra che abbiano reagito bene nei punti giusti, insomma. E quindi siamo moderatamente speranzosi per... così, una cautela scaramantica. Vieni Gabriele, Gabriele Muccino, un altro grande direttore, un altro grande regista italiano. No, sono qua, sono qua, mi guardo Maestro Bernardo, mi guardo il mio collega Maestro Sorrentino. Essere qui è importante per me, per la presenza di aver visto un film che mi ha, come ti ho detto, colpito moltissimo. E che è vero cinema, ed è un cinema che non si fa più da trent'anni in Italia, e che io non saprei fare, per cui... intanto complimenti. E che poi mi porta a quel cinema enorme, epico, sensuale, unico, coraggiosissimo, che Bernardo ha fatto e che ha lasciato un segno nella storia che è tangibile ovunque tu ti muova. E lo vedi, lo senti intorno a te. Quindi grazie di essere qua. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.